Un momento magico per Abarth, noi da un lato stiamo per presentare e sta arrivando in concessionaria la nostra nuova 124 Abarth e dall'altra parte stiamo realizzando un sogno, un sogno che diventa in realtà con questa 124 Rally che ai suoi primi appuntamenti pubblici sta riscuotendo un enorme successo, sia emotivo che sostanziale perché effettivamente la vettura rilascia le prestazioni al di sopra le aspettative. La 124 Rally è una vettura da pilota, come la 124 Abarth è una vettura da cliente che ama l'emozione, che ama le sensazioni, che ama le prestazioni su un prodotto ad alto tasso di emotività. Noi continuamente, lo facciamo anche con la 595, contaminiamo i due mondi, quindi vedrete sulle nostre 595 delle soluzioni tecniche che provengono dal mondo del racing e a volte succede anche il contrario.